Ansa, Catania, 24-8, non ho alcun problema a partecipare a un confronto con Maria Elena Boschi. Dopo il 5 novembre perché adesso sono impegnato in Sicilia a mandare a casa gli impresentabili di Musumeci e di Micari. Il confronto sia magari all'americana, in una piazza davanti a Banca Etruria con i risparmiatori, così avrà modo di dire anche a loro la verità. L'ha detto il vicepresidente della Camera e candidato premier del M5S Luigi Di Maio, a Catania, a margine di una sua visita nell'Istituto di Fisica Nucleare.